Per il Sicilia.it siamo qui oggi all'Assemblea regionale siciliana per la presentazione della relazione antimafia ad un anno dal suo insediamento. Credo che abbiamo sottoposto al Parlamento lo stato della mafia presente nel nostro territorio ed è molto presente, soprattutto nel settore dell'estorsione e del traffico degli stupefacenti. Abbiamo evidenziato alcuni rischi che fanno parte di quella cultura di mafiosità diffusa, a partire dalla presenza di tantissime armi che anche tra i giovanissimi caratterizzano in alcuni casi uno status symbol. Abbiamo posto anche la necessità di mettere in campo azioni di contrasto che abbiano strumentazione capace di dare il senso di una lotta concreta alla mafia, a partire dal tema delle imprese confiscate, dei beni confiscati, la sicurezza nelle nostre città attraverso il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza, il potenziamento dei vigili urbani nei nostri territori. L'altra grande questione è far sentire il fiato sul collo rispetto a quei settori più a rischio, in particolare il settore degli appalti, con il rischio che il subappalto a cascata possa in qualche modo essere realizzato con pochi controlli. Sono settori strategici per l'economia della nostra regione e soprattutto abbiamo messo in campo una strategia e anche un'azione per far sentire che la Sicilia non può arretrare sul piano dell'impegno civile. Registriamo una società che in qualche modo, dove prevale in alcuni ambienti e si diffonde maggiormente anche rispetto a qualche anno fa, il tema della indifferenza. Noi abbiamo la necessità di sapere che la mafia la sconfiggiamo certamente con il lavoro straordinario delle forze dell'ordine, della magistratura, ma soprattutto anche con la capacità della società di isolare e di sconfiggere sul piano reputazionale i mafiosi. Si è parlato anche di beni confiscati. Come si può agire e cosa si può migliorare? Certamente bisogna innanzitutto affrontare il tema di come è organizzata l'Agenzia dei beni confiscati e nello stesso tempo affrontare alcuni sintomi di malattia del sistema. Se il 98% delle società confiscate viene portato al fallimento, vuol dire che c'è qualche problema di organizzazione, di funzionalità, ecco perché abbiamo proposto di istituire una linea di credito diretta alle società confiscate dalla mafia. Allo stesso tempo pensiamo che la Regione debba fare la sua parte anche per la ristrutturazione dei beni saccheggiati, devastati, vandalizzati, che devono essere restituiti alla società e alle comunità per dare concretezza a quell'impegno che la legge, la torre, individuava nel non solo sequestrare i beni mafiosi e colpirli sui patrimoni, ma restituirli alle comunità come segno del successo che la mafia impoverisce e lo Stato restituisce. L'abbiamo fatto dinanzi ai prefetti di tutta la nostra Regione e dinanzi a una scolaresca che ho fortemente voluto insieme al Presidente Cragolici affinché cominciassimo un percorso di educazione culturale perché non possiamo pensare di poter cambiare determinate persone a un'età o perlomeno ci si lavora. Certamente è meglio farlo, sin dall'inizio farlo nella formazione scolastica. Il problema delle droghe è stato assolutamente affrontato così come altri. Però permettetemi di ricordare che già nell'ultima finanziaria questa Assemblea ha varato una norma dove ha messo anche alcune risorse, se non ricordo male, oltre un milione di euro proprio per il contrasto a questo fenomeno assolutamente dilagante. Un altro tema che è stato affrontato e che mi auguro potrà andare sempre più avanti è quello relativo al disegno di legge che mi è stato sottoposto qualche mese fa dal dottore Di Bella, Presidente del Tribunale dei Minori di Catania e che mi sembra stia eseguendo il giusto percorso e con anche una certa condivisione da parte di tutte le forze politiche. La strada è lunga ma chiaramente bisogna pur cominciare da qualche parte e ci auguriamo di lavorare nel sentiero giusto. Grazie a tutti.